Aperto il nuovo sportello clienti di ERA a San Giovanni in Persiceto, il secondo inaugurato in pochi giorni con opere di restyling molto prestate dal pubblico. Con questi sono saliti a 84 gli sportelli dislocati dalla multi utility regionale ERA su tutto il territorio, a conferma della propria volontà di continuare di investire nei servizi rivolti ai clienti dei luoghi in cui opera il servizio di Massimo Montanari per noi. E' stato inaugurato lo sportello di ERA di San Giovanni in Persiceto, l'inaugurazione di questo sportello segue di pochi giorni quello di Casalecchio di Reno, sono così 84 gli sportelli serviti da ERA su tutto il territorio, a sottolineare l'intenzione della multi utility di continuare ad investire nel servizio rivolto ai clienti e nei luoghi in cui opera. Questi sportelli sono la manifestazione tangibile del fatto che ERA vuole rimanere e rimane una società radicata nel territorio, è l'unica società nel settore che investe in maniera significativa sul mantenimento del rapporto fisico con i clienti, e questo investimento ovviamente va affiancato all'investimento che stiamo facendo su call center e sportello ERA online che ci stanno dando ottimi risultati. San Giovanni in Persiceto tre anni fa abbiamo avuto con la comunità locale un confronto via attenzione perché qui esisteva da sempre una struttura operativa dell'area reti di ERA, operatori per l'acqua e per il gas. All'interno di un progetto di razionalizzazione e industrializzazione delle nostre attività ci siamo imposti il tema su come concentrare da un punto di vista operativo le risorse nel territorio. Il criterio che abbiamo adottato è che le persone, i cittadini non debbano spostarsi, mentre invece le nostre strutture, i nostri mezzi possono ampiamente spostarsi. A Persiceto ci fa particolarmente piacere che ERA abbia scelto di insediare in modo definitivo e anche, come si può vedere, molto apprezzabile una sede e quindi uno sportello dedicato ai cittadini, ai cittadini che sempre di più necessitano di un rapporto e di un dialogo costante con un'azienda così importante che gestisce i servizi così direttamente connessi agli interessi della popolazione e che ora e oggi è consolidata e quindi potrà dare sia migliori servizi e maggiori servizi alla popolazione, ma anche garantire un dialogo e una risposta sui problemi, sui singoli problemi e sulle singole problematiche che i cittadini si troveranno ad affrontare.